Siamo cari e non vediamo l'ora di cominciare STIAMO ARRIVATTO STIAMO ARRIVATTO STIAMO ARRIVATTO STIAMO ARRIVATTO STIAMO ARRIVATTO E' stata un'esperienza bellissima, abbiamo giurato contro squadra di altissimo livello e la dedico a tutti i miei compagni, a Giovanni che è il mio allenatore che conosce statunque e anche a mio padre che mi ha invitato a fare questo successo Bravo! Ciao! 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 Ciao!